Cari amici, un buon Natale e un felice anno nuovo da Marco Mori. Vorrei fare una richiesta a Babbo Natale per queste feste. Me la fate fare una richiesta semplice? Ma semplice forse neppure troppo. Io vorrei che ci liberasse una volta per tutte da questa classe politica di innetti. Classe politica di innetti senza distinzioni di colori da sinistra a destra. Una classe politica che continua ad attuare senza soluzione di continuità l'agenda voluta dal potere economico e finanziario. Non hanno la minima comprensione di quale sia il modello economico previsto in Costituzione. Quel modello che dice una cosa semplicissima. L'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Serve l'intervento dello Stato in economia. Serve più spesa pubblica. Serve la piena occupazione di Stato. Tutti i disoccupati devono essere assunti domani mattina nel settore pubblico per fare tutte le migliaia di cose di cui c'è bisogno. Questo è il mio augurio e la mia richiesta a Babbo Natale per l'anno prossimo. Non odio, non odio nessuno, quindi non chiedo di farli sparire dalla società ma dalla politica. Nella società voglio che questi innetti restino perché dovranno pure essere processati e pagare i danni per quanto hanno fatto in questi anni. Processi ai sensi del codice penale vigente, 241 e seguenti del codice penale per tutti coloro che hanno menomato l'indipendenza e la sovranità nazionale. Babbo Natale ci fai questo favore? Non è facile, lo so. Se non interverrai tu ci proveremo noi. Un caro saluto a tutti, buon anno e ancora buon Natale.